Il Rinascimento volta le spalle al Gran Ducato di Toscana e sul finire del XV secolo dirige i suoi passi verso Roma. Nel campo delle arti la città dei papi reclama la sua rivincita sulla dinastia dei Medici. È il 1492 e Rodrigo Borgia, appena salito al soglio pontificio con il nome di Alessandro VI affida al pinturicchio e alla sua squadra di collaboratori la decorazione del proprio appartamento, oggi sede di una parte della collezione d'arte religiosa moderna dei Musei Vaticani. L'amore per lo sfarzo del neo eletto Papa trova nel talento del maestro Umbro un interprete sublime, capace di una delle testimonianze più alte della pittura murale a Roma. Ai colori di queste scene il laboratorio di restauro dipinti e manufatti linei dei Musei Vaticani sta restituendo sala dopo sala, la grazia e la brillantezza di un tempo. Analisi al laboratorio e tecniche di pulitura all'avanguardia per un ciclo pittorico che rimarrà nella storia dell'arte come uno dei più rivoluzionari mai compiuti fino al XV secolo. Con noi Arnold Nesseratt, delegato per l'area tecnico-scientifica dei Musei Vaticani. L'appartamento Borgia è il più antico appartamento pontificio che esiste ancora. Fu realizzato in due anni di tempo con una grande squadra di pittori e loro hanno scelta una tecnica molto particolare per eseguire questo in un così breve arco di tempo e hanno usato la tecnica prevalentemente in assecco per realizzare tutto questo, cioè hanno lavorato qui più nel modo come si fanno le pitture su cavaletto anziché sul muro. Poi ci sono le solite lacche, le solite dorature, ci sono tutte queste cose che loro hanno voluto utilizzare allora bisogna avere la cura di trattare ogni tecnica particolare col modo giusto, con i solventi giusti senza poi far male a quali accanto che magari chiedono un altro trattamento. Un ciclo pittorico, quello del pinturicchio, che ispirò Raffaello per gli affreschi dell'appartamento di Giulio II, realizzati 15 anni dopo. Tra gli stucchi e gli ornamenti a rilievo, sulle cui superfici tornano a splendere le foglie d'oro, riemergono figure in ombra, come quelle appena abbozzate dal pennello dell'artista nella stanza dell'appartamento Borgia, nota come la Sala dei Misteri. La scena della risurrezione, naturalmente una delle principali scene in questa sala, dove anche il Papa sostituisce la Madonna e una cosa che si è visto anche prima, però durante il restauro si è potuto vedere da vicino e questo era la presenza degli indigeni americani che subito dopo la scoperta dell'America, nello stesso anno in cui si comincia a dipingere in questa sala, gli rappresenta qui proprio con la risurrezione, che vuol dire il messaggio, la rivelazione del Papa nel mistero della risurrezione, viene comunicato anche al mondo allargato fino alle nuove sponde. Abbiamo fatto ora due stanze, stiamo lavorando nella terza stanza dell'appartamento eseguito dal pintoricchio, questo durerà forse un altro paio di anni, poi ci sono due altre stanze che sono state decorate da un altro pittore, Pia Matteo D'Amelia e questa sarà poi la continuazione di questo lavoro.